buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 27 marzo 2024 siamo nella settimana di pasqua e quindi guardiamo subito con particolare interesse dato che la pasqua è vicina al santo del giorno eccolo qua nella grafica si tratta di san ruperto era un santo di origini orlandesi ma che visse in modo particolare in germania visse nell'ottavo secolo e fu veramente tante tante cose fu monaco ma fu anche vescovo vescovo di salisburgo di worms di ratisbona fu un vescovo itinerante dunque ma in modo particolare viene ricordata a salisburgo la città del sale dove ci sono ancora oggi tante tante miniere di sale che sono visitabili appunto ai turisti ebbene le reliquie di san ruberto si trovano proprio a salisburgo la città del sale le previsioni del tempo beh ancora il tempo tarda a rasserenarsi diciamo così ma a pasqua dovrebbe migliorare oggi una giornata spiccatamente variabile nella regione con tempo stabile al mattino mentre nel pomeriggio in serata ci dovrebbero essere piogge e anche rovesci e poi un miglioramento durante la notte ebbene le temperature 11 la minima 16 la massima i venti sulle coste da ovest nell'interno da sud ovest il sole è sorto questa mattina alle 5 e 57 e tramonterà alle 18 e 27 ebbene dopo questo preambolo apriamo i giornali e vediamo oggi il resto del Carlino sulla pagina di Fano l'apertura è dedicata ad un ritorno su quella vicenda che è accaduta a Fano dove un ristoratore è stato accusato di avere picchiato un cliente di cui vediamo qui la fotografia con il naso rotto eccolo qua la stessa fotografia che era apparsa ieri sempre sullo stesso quotidiano ma oggi abbiamo una versione diversa ieri abbiamo visto la versione di colui che è stato colpito steso a terra con un pugno in faccia oggi invece vediamo la versione del ristoratore colui che avrebbe sferrato questo pugno cliente steso dal titolare dopo la serata non è andata così confuta la versione del suo cliente il ristoratore siamo noi gli aggrediti ha dichiarato parla dunque Raffaello Caccese che è il gestore del locale in cui sabato un 55enne di Senigallia è stato colpito con un pugno hanno spaccato tavoli e sedie ha detto e le telecamere lo dimostrano e i filmati delle telecamere ha detto il ristoratore sono disponibili a consegnarle ai carabinieri per provare la mia versione se la sono presa anche con una cameriera che è stata spintonata e caduta a terra dunque versioni contrastanti ora saranno i carabinieri che dovranno fare luce su questa questione insomma dare indicazioni poi al giudice per vedere chi ha colpito per primo e insomma colpire non va mai bene perché poi se si passa alla violenza insomma le ragioni anche se si hanno si perdono e poi vediamo un articolo a che a fondo pagina riguarda sempre la sicurezza è uno dei incontri che la lista di noi civici sta facendo in vista delle prossime elezioni amministrative ebbene questa volta si è svolta nella località una località dunque dei quartieri dei quartieri di Fano e proprio dei quartieri viene richiesto prima di tutto lo psicologo e poi anche l'infermiere l'infermiere di quartiere poi abbiamo questi servizi di comunità che dovrebbero incentivare l'aggregazione delle persone che ambitano in uno stesso agglomerato urbano serve lo psicologo di quartiere e non solo l'infermiere ed è appunto uno degli interventi che sta facendo Etienne Lucarelli candidato alle primarie ma poi vedremo come la questione politica si sta animando perché poi sono in ballo anche altri incontri di altri esponenti politici e oggi per esempio ci sarà la presentazione di una nuova lista civica che fa riferimento al centrodestra e quindi al candidato sindaco Luca Serfilippi il volley riempie gli spalti eppure gli alberghi ebbene una nuova iniziativa della Virtus che sta veramente organizzando dei campionati, dei tornei in città sul quale convergono le grandi squadre a livello nazionale e poi c'è anche un grande ritorno di carattere turistico perché poi tutti questi atleti con i loro allenatori e anche i loro estimatori, i loro parenti riempiano appunto il sistema ricettivo a Fano convergeranno le migliori squadre di volley under 13 in arrivo quasi 800 persone tra atleti e familiari che per tre giorni a partire da domani giovedì e poi venerdì e sabato animeranno la città e riempieranno le strutture ricettive quindi una boccata d'ossigeno anche per gli albergatori ma soprattutto una bella occasione di divertimento per vedere del buon volley per i tifosi di questo sport dunque allora in tre giorni di torneo saranno disputate ben pensate 50 partite in quattro impianti di gioco Palatrave, Vigilar Arena e in due campi del circolo tennis mentre la finale e le premiazioni di tutte le squadre si terranno ovviamente al Palace Allende e saranno presenti le squadre under 13 maschili più forti d'Italia lo ha spiegato Marco Mantile che è dirigente del Virtus ebbene tre vengono dalla Lombardia, tre dalla Toscana, una dalla Liguria, una dal Friuli, una dal Veneto e una del Trentino si inizierà a giocare il giovedì pomeriggio al Palatrave e del circolo tennis per proseguire poi nei giorni successivi quindi del grande sport in periodo pasquale e un gran divertimento anche per i ragazzini perché si tratta di ragazzi di 13 anni e poi passiamo nell'entroterra e vediamo la foto del sindaco di Pergola Guidarelli ebbene la sindaca ha riempito così, ha rotto gli indugi e si presenta per un nuovo mandato verso il voto Guidarelli tenta il bis ho riportato, ha dichiarato i pergolesi al centro i cittadini erano diventati spettatori delle decisioni assunte dalla passata amministrazione ed ora da spettatori diventano protagonisti c'è una intervista che viene rilasciata dalla sindaca vediamo la sua decisione sì, ha detto, ho scelto di ricandidarmi per proseguire il lavoro iniziato cinque anni fa un equinquennio complesso per tutti in modo particolare per Pergola ma in questo periodo Pergola ha subito un progresso per quanto riguarda la promozione delle sue attrattive in tutto il territorio e anche per quanto riguarda l'accoglienza perché un turista che visita il paese viene accolto da guide viene accolto da persone affabili, persone che possono indicare e fare apprezzare anche tutte le risorse che Pergola vanta dal punto di vista archeologico, artistico, culturale e via dicendo passiamo ad Urbino passiamo ad Urbino dove l'episodio delle molestie subite da alcune ragazze ha avuto una progressione, diciamo così e si è creata una solidarietà tra tutti i ragazzi i quali hanno organizzato un incontro esterno di fronte alla polizia reclamando più vigilanza, reclamando più controllo, reclamando più protezione studenti dalla polizia, datici più sicurezza e questo è il titolo che oggi ha composto il resto del Carlino è tutto nato appunto dal caso del molestatore delle ragazze che ora si allarga le ragazze non si sentono più sicure dopo che un ragazzo insistentemente le stava molestando e ieri si sono presentati in massa al commissariato la polizia ha dialogato con tutti i presenti confermando che il giovane è stato identificato e denunciato dopo le aggressioni e pare che manifesti un po' dei comportamenti sconnessi probabilmente insomma ha qualche problema di carattere psichiatrico ma questo deve essere appurato perché poi il comportamento è un comportamento trasgressivo ma che può nascere da tante cause per fare prevenzione è stato previsto un pattugliamento insieme ai carabinieri un pattugliamento aggiuntivo che dovrebbe proteggere ancora di più le ragazze le studentesse che frequentano l'università di Urbino ed ora vediamo quelli che sono gli avvenimenti di Urbino per quanto riguarda la Pasqua Pasqua tra arte e cultura e divertimento per le famiglie nella città ducale anche quest'anno grande attenzione per i bambini ci saranno proiezioni serali sulla facciata di Palazzo Nuovo in piazza musei aperti mercatini attività per i ragazzi sorprese preparate per accogliere chi arriverà in città ecco come sarà la Pasqua ad Urbino che innanzitutto proporrà due novità per gli amanti dell'arte la prima è la grande mostra di riproduzioni di tutte le opere di Raffaello intitolata Raffaele Urbinas aperta dalle 17 di domani al primo piano al collegio Raffaello dove è stato allestito un percorso di 30 riproduzioni fatte con tutte le moderne tecnologie quindi sono veramente produzioni perfette di tutti i quadri di Raffaello e sono anche in scala 1 ad 1 in 2D e quindi hanno anche un certo rilievo una certa compenetrazione tra il visitatore e il quadro che viene a lui mostrato nel ponte festivo in piazza della Repubblica dalle 21 alle 23 e 30 per quanto riguarda poi un'alternanza di cicli di 10 minuti sarà proiettato un videomapping sulla facciata di Palazzo Nuovo ecco appunto le due attrattive una alla mostra uno il videomapping per quanto riguarda il periodo pasquale un'attrattiva in più che si aggiunge poi a tutte le attrattive di Urbino bene questo per quanto riguarda l'entroterra e Fano vediamo anche le notizie sulla pagina di Pesaro e vediamo come l'apertura è dedicata è dedicata al lavoro siamo in prossimità della stagione turistica ovviamente gli operatori stanno facendo i loro conti si stanno organizzando per affrontare una nuova attività ristoratori, baristi, albergatori e cercano personale alla faccia dei nuovi assunti 9 su 10 sono precari e questa un po' è la situazione del territorio è il lavoro a chiamata di Laga lo vediamo quanto dice su questo titolo lo vediamo espresso i numeri su questa tabella vediamo che nel 2001 le assunzioni a tempo indeterminato erano 5.250 nel 22 nel 2022 sono aumentate a 6.372 ma nel 2023 sono diminuite di nuovo a 5.898 vediamo quelle a tempo determinato le assunzioni insomma che non danno un futuro a chi poi le sottoscrive nel 2021 erano 18.618 guardate il divario che esiste tra quelle a tempo determinato a quelle a tempo indeterminato qua abbiamo 5.000 qua si parla di 18.000 dunque sono un po' le assunzioni che durano poco e poi uno si ritrova ancora nella possibilità nel dovere cercare nuovo lavoro nel 2022 sono aumentate leggermente a 19.485 e sono un po' diminuite nel 2023 a 19.214 e vediamo anche le assunzioni più precarie quelle stagionali che nel 2021 erano 6.436 cresciute nel 2022 a 7.095 sono cresciute anche quest'anno a 7.200 anche nel 2023 scusate sono cresciute a 7.250 queste sono sempre in progresso e beh insomma è una situazione particolare e qua vediamo invece una notizia che rattrista il mondo dell'arte è morto Giuliano Vangi il grande scultore Giuliano Vangi che viveva a Pesaro che per Pesaro e per Fano ha fatto delle grandi significative opere ed era un artista apprezzato in tutto il mondo con le sue opere è stato allestito un museo ad Osaka in Giappone e aveva commesse da tutta tutta Europa è uno dei più grandi scultori così lo aveva definito Vittorio Sgarbi ma anche altri critici d'arte dell'epoca contemporanea un gigante della scultura Sgarbi ora Pesaro gli dedichi una mostra ha sollecitato il critico ebbene Vangi aveva 93 anni ed era malato da tempo accanto fino all'ultimo alla moglie Graziella vediamo come poi la morte lui abitava abitava a Pesaro ed è ceduto per un male appunto che lo ha minato giorno per giorno ci sono delle testimonianze importanti su questi articoli che riguardano la scomparsa di un grande di un grande artista il vice sindaco Daniele Vimini ha detto Pesaro capitale della cultura omaggerà questo grande artista con una mostra delle sue opere l'ho conosciuto bene Giuliano Vangi ha detto Sgarbi perché ero con lui quando inaugurò il museo tutto dedicato alle sue opere ad Osaka in Giappone e due anni fa organizzai una mostra a lui dedicata al museo di Rovereto se ne va l'ultimo grande lo omaggi Pesaro e lo omaggi poi anche tutta Italia per Pesaro Vangi scolpì creò le sculture davanti ai musei civici e per Fano la fontana della Concordia in piazza Amiani una fontana che ora assume un significato particolare dopo la morte dell'artista omicidio Panzieri Alessandrini andrà a giudizio può sostenere il processo a questa notizia Fano TV ieri sera ha dedicato un importante servizio nel suo telegiornale ebbene dovrà rispondere di premeditazione crudeltà ed un gesto senza alcun movente sono queste le tre accuse che caratterizzeranno il processo che si aprirà a partire dal 3 luglio prossimo Michael Alessandrini è reo confesso dell'omicidio nei confronti del suo amico e quindi e quindi dovrà appunto sostenerne le conseguenze il processo inizierà come abbiamo detto il 3 luglio in corte d'assise e dovrà fare luce sul perché e sul perché Alessandrini uccise Pierpaolo l'unico amico che gli era rimasto e lui dice ero perché ero innamorato di lui vabbè dopo le versioni dovranno essere così valutate e provate dal dal giudice e poi vediamo un articolo che riguarda dunque vediamo se lo trovo lasciamo da parte riceci perché insomma riceci appare tutti i giorni è come una telenovela chi è interessato a questa situazione di grande importanza poi dal punto di vista ambientalistico può seguirne tutti gli sviluppi perché i giornali dedicano una particolare interesse una particolare attenzione a questa situazione ma ora noi passiamo passiamo al Corriere Adriatico e vediamo l'apertura nella pagina di Fano dedicata alle terme di Carignano perché appaiono alla ribalta le terme di Carignano perché esiste una osservazione presentata dalla proprietà delle terme che evidenzia come la società sia ancora viva da questo punto perché c'è stato un lungo silenzio dal autunno del 2022 da che la società ha presentato un bel progetto di ricostruzione delle terme di Carignano ma poi non si è saputo più nulla c'è stato un lungo silenzio nonostante che la città sia stata desiderosa abbia spinto la società per sapere per conoscere le date di inizio dei lavori se ci sono problemi non ci sono ebbene tutto è rimasto sotto silenzio non parlano dichiarazioni ma ci sono documenti e l'unico documento che insomma rivitalizza questo discorso è un'osservazione che la società ha presentato al nuovo piano regolatore il piano regolatore nuovo è stato approvato dal consiglio comunale ed ora in fase tutto lì è il liter burocratico fino all'adozione definitiva tra queste c'è di mezzo anche la possibilità a cittadini e associazioni di presentare delle osservazioni ebbene la società del gruppo romani si tratta della gestione spedalità private gsp srl chiede che sia ripristinata la zonizzazione che era del vecchio piano regolatore quello che è stato abrogato perché perché su questa zonizzazione la società aveva impiantato il suo progetto quello che poi è stato presentato in realtà hanno detto poi gli organi comunali che si tratta semplicemente di una situazione formale e non sostanziale e che se la società vuole l'osservazione probabilmente verrà accolta si ripristano tutte le bandierine all'interno del comparto per dire quello che sarà edificabile e quello che sarà la zona verde ma in realtà il nuovo piano regolatore non presentando nulla lascia campo libero ai tecnici della società e a insistere perché la società si esprima c'è anche l'Udc che con Stefano Pollegioni ha ancora così salito alla ribalta per spingere per provocare la società a dire la sua e a chiarire una volta per tutte di fronte alla città se vuole andare avanti oppure se le cose finiscono in fumo come sono finite negli anni passati refezione scolastica Fano ancora prima in Italia un altro successo per le mense scolastiche per le quali Fano si è sempre distinte a Palazzo Valentini a Roma si è svolto ieri il convegno nazionale sull'educazione alimentare del mondo della scuola promosso da Food Insider ebbene qui anche Fano per la seconda volta ha raggiunto il podio affermandosi per il terzo anno consecutivo prima a livello nazionale tra le realtà più avanzate rispetto all'educazione alimentare e alla qualità dei menù proposti quindi veramente più di così non si può raggiungere nessun altro risultato e in quest'altro articolo di apertura invece del Corriere Adriatico vediamo come l'attenzione si punta sul Museo della Flaminia il Museo della Flaminia che è aperto al pubblico nei pressi dell'arco di Augusto ma sta decadendo sta decadendo perché alcuni suoi impianti di carattere virtuale sono desueti si sono rotti è stato introdotto un biglietto di ingresso prima l'ingresso era gratuito ebbene il museo va rinnovato lo caldeggia il professor Paolo Clini padre del progetto che invita a sanare l'usura e a puntare sulla intelligenza artificiale siamo in conclusione voglio segnalarvi soltanto una impresa che hanno fatto i ragazzi del Polo 3 quelli della grafica ebbene hanno realizzato dei fular pasquali in collaborazione in diciamo così in intesa con i disabili dell'associazione con i genitori dell'associazione AGFI che insomma si occupa della disabilità e quindi è un'opera creativa e un'opera di solidarietà e con questo terminiamo appunto la nostra rassegna stampa e vi diamo appuntamento come sempre a domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto